Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, recita un antico proverbio africano. Una comunità fatta di legami prima ancora che di opportunità. E a questi principi si ispira Kanguro Lab, il primo portale che raccoglie gli annunci gratuiti di tutta Italia per trovare lavoro, eventi, beni e servizi che riguardano bambini e ragazzi da 0 a 16 anni. L'iniziativa finanziata dall'Unione Europea è frutto di un'idea di tre sorelle, Rossella, Donatella e Jenny Fascia, tutte e tre originarie di San Marco la Catola. Noi da piccole siamo state cresciute in un piccolo paese, come si suol dire ci vuole un paese intero per crescere un bambino. Ed è proprio questa l'idea che ci ha ispirato, creare online il piccolo borgo. Siamo una famiglia che parla alla famiglia di un modo tutto nuovo di fare comunità, di interagire e di aiutarsi. In un Kanguro Lab si possono trovare tre grandi categorie, lavoro, eventi e corsi e mercatino, all'interno delle quali poter trovare babysitter, insegnanti, animatori, volontari, professionisti della salute e tanto altro. Nella sezione eventi e corsi invece abbiamo il piacere di ospitare laboratori, workshop, corsi di musica, danza, sport e teatro. Mentre nella sezione mercatino abbiamo la possibilità di vendere, comprare o regalare e barattare. Diamo molta importanza all'ecologia perché il mondo che lasciamo ai nostri bambini è quello del domani e deve essere nostro dovere prendercene cura, per quello diamo maggiore visibilità agli annunci ecosostenibili e agevoliamo le ricerche a miglia a zero dal punto di produzione e dal punto di distribuzione. Su kangurolab.it è possibile consultare la sezione lavoro, mercatini ed eventi con l'opportunità inoltre di inserire un annuncio. Obiettivo? Costruire una community ecologica e solidale che si prenda cura del bambino e del suo mondo. Grazie a tutti.